Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo degli scarpa Rush Polar GTX, la versione invernale dei Rush che abbiamo visto a marzo uno scarpone, vi assicuro, caldissimo, di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa come al solito iniziamo dal peso, taglia 42 e il peso dichiarato è di 680 grammi nel mio 47 e il peso sale abbastanza, arriviamo attorno agli 850 è uno scarpone, adesso poi vi farò vedere perché pesa così tanto, però vi assicuro che comunque utilizzato non si sente granché tutto questo peso iniziamo come al solito dalla suola, qua troviamo una suola presa di proprietà di scarpa, l'abbiamo già vista su altri modelli è più o meno simile anche alla suola presente sul modello estivo, è una suola che mi ha sempre convinto che è fatta in materiale super gam, vi assicuro offre davvero tantissimo grip e ci sono rimasto talmente buono il grip su quel terreno ghiacciatino, dove magari andrebbero messi i ramponcini per intenderci questi scarponi vanno decisamente bene, è sorprendente, l'unica cosa però che essendo così morbida per garantire un così alto grip, se la andiamo a utilizzare su terreni tipo rocciosi, di fondo valle e via dicendo, dove non c'è neve o ghiaccio, tende molto facilmente a consumarsi per il resto la suola è composta da sette diverse parti che ci danno stabilità migliorano l'avanzamento e ci aiutano nella frenata e si sente tutta questa geometria perché comunque a fine giornata grazie a tutta questa geometria e all'intersuola di cui parliamo adesso il piede non è mai stanco visto che ne parlavamo, arriviamo all'intersuola un'intersuola abbastanza basso che insieme alla suola vanno a dare una certa rigida allo scarpone per intenderci non stiamo parlando di uno scarpone rigido ma stiamo parlando di uno scarpone semirigido questo l'ho particolarmente apprezzato perché questo scarpone col giusto rampone può essere anche ramponato saliamo ancora, arriviamo a parlare di tutta la tomaia iniziando dal puntale un puntale veramente molto duro, ben costruito con un bel fascione che va a prendere buona parte del nostro piede quindi mi è piaciuto davvero davvero tanto una tomaia scamosciata, pensate spessa addirittura tra 1.7 e 1.9 mm quindi veramente molto molto spessa e con un'imbottitura in Primaloft che è quella che praticamente fa la differenza questa imbottitura in Primaloft 100% riciclata gli conferisce una termicità vi assicuro eccezionale questo scarpone viene dato come temperatura comfort a meno 8 io sono arrivato a meno 6 con dentro una calza estiva e stavo molto bene a mio parere con questo scarpone con una calza invernale di quelle fatte bene secondo me ci arriviamo tranquillamente anche a meno 12, meno 13 senza tanti problemi poi naturalmente dipende anche quanto siamo calorosi o freddolosi noi ma con questo scarpone davvero potete andare sotto i meno 10 senza tanti problemi a livello di impermeabilità per quanto riguarda la tomaia non ci sono naturalmente nessun problema il Gore-Tex è sempre una garanzia da questo punto di vista anche se non sono proprio convintissimo che il Gore-Tex fosse la migliore membrana per questo scarpone per il semplice fatto che questo scarpone quando si bagna magari faccia una ciaspolata lunga tende a rimanere poi umido e bagnato la tomaia esterna tende a rimanere umida e bagnata per diverso tempo continuiamo arriviamo a parlare del tallone qui troviamo un inserto stabilizzatore DST che comunque si sente si sente che ha il suo effetto nella camminata soprattutto nel momento in cui magari tende a scivolare il piede su neve fresca o ghiacciatino si sente che svolge davvero un ottimo lavoro e in generale comunque tutto il tallone è fatto decisamente bene nella parte bassa è abbastanza rigido e questo ci evita come solito di fare questo movimento di svircolare e rischia di prenderci una storta ma ci evitiamo di prendere una storta anche grazie all'altezza di questo scarpone vi assicuro questo scarpone è davvero altissimo è più alto rispetto a uno scarpone normale però questo ci aiuta sia nel poter non prendere una storta perché comunque ci tiene il piede molto serrato sia nel momento in cui andiamo a camminare in neve fresca che con il giusto pantalone anche non ci entrerà mai neve all'interno del nostro scarpone oltretutto essendo così alto va molto bene anche per tipi di ciaspoli che magari non attacco particolarmente alto arrivando poi a parlare di tutto il collarino del piede questo vabbè naturalmente è decisamente imbottito però è fatto anche di un materiale molto molto soffice al tatto anche camminando tanto si sente che è molto morbido quindi anche questo tipo di materiale mi è piaciuto molto in sé anche la linguetta è composta dallo stesso tipo di materiale e vi assicuro la linguetta lavora molto molto bene è enorme ma perché ce ne sono tanti lacci da andare a coprire e resta ferma la linguetta che lavora molto bene visto che ve ne parlavo arriviamo a citare l'allacciatura questa è composta da due parti quella inferiore che arriva quasi in punta e ci garantisce di poter serrare il nostro scarpone molto facilmente e poi troviamo quattro pastelacce pensate addirittura quattro per arrivare a serrare lo scarpone veramente super in alto e mi è piaciuta anche l'allacciatura perché comunque si sente tanto il momento in cui andiamo a spingere magari su neve fresca in cui il piede tende a scivolare si sente che lo scarpone è davvero comodo e resta ben fermo attorno al nostro piede infine per quanto riguarda la linguetta interna io mi ci sono trovato bene è la classica linguetta che utilizza scarpa è sostituibile quindi volendo potete sostituirla ma in generale mi ci sono trovato bene quindi non penso che andrei a cambiarla a livello di spazio del piede l'avampiede non è troppo generoso volendo il piede all'interno si può mettere benissimo con una calza o una doppia calza però non è uno scarpone con un avampiede super grande quindi volendo cioè se avete un piede decisamente grande forse è meglio optare per magari mezzo o un numero in più arriviamo dunque alle conclusioni di questi scarpa Rush Polar GTX mi sono piaciuti tantissimo e ve li consiglio davvero tanto è uno scarpone che ha il suo prezzo perché costa 240 euro sul sito ufficiale di Scarpa online lo si trova un pochino meno però di quegli scarponi che d'inverno non vi fa sentire freddo se andate con questi sarete sicuri di non sentire freddo ai piedi e oltretutto io penso che uno scarpone leggere al di là delle ciaspolate al di là magari di un semplice alpinismo perché comunque riusciamo un pochino a ramponarlo può andare molto molto bene se dovessimo fare una qualche vacanza o spedizione al nord in Islanda, Norvegia, Lappogna quei posti lì dove abbiamo bisogno di magari uno scarpone molto caldo con il quale camminare anche tante ore questo lo trovo veramente eccezionale anche da quel punto di vista quindi in generale è consigliato anche per quel tipo di uso detto ciò ragazzi io nella speranza sia stato esauramente esaustivo anche per questa recensione vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao